Alla fine ci pensa Vedran Seljak ad evitare la beffa, perché Lecco gioca bene e costruisce occasioni con facilità, ma non riesce a segnare e finisce per subire, a 20 minuti dalla fine, il gol degli ospiti. A salvare i Blue Celesti ancora una volta un colpo di testa su calcio piazzato. Termina 1-1 a rega Monticeppi la sfida tra Lecco e Olbia. Mister D'Agostino sceglie ferrinando Mastroianni al centro dell'attacco. Nei primi 15 minuti l'attaccante alto 1-93, almeno tre nitide occasioni per segnare. Prima non arriva su un bel cross del sempre brillante Iopolano, da segnalare sugli sviluppi, lo spettacolare Scorpione tentato da Marotta. Poi tira debole da ottima posizione, infine la mette alta a due passi dall'area piccola, errori che in C costano caro. Il Lecco ha in mano il match, le chance si moltiplicano, Masini obbliga Tornaghi all'intervento. Azzi da ottima posizione colpisce male, la sua conclusione viene respinta ad Arboleda, ma anche l'Olbia ha la possibilità di colpire. Pennington per due volte si trova tu per tu con Pissardo, ma non è preciso. Ancora Mastroianni a due passi dalla porta, non riesce a concludere. Dall'altra parte Udo non fa meglio, il suo diagonale da posizione ravvicinata finisce fuori di poco. Il primo tempo termina incredibilmente 0-0. Nella ripresa il Lecco continua ad attaccare, ma aumentano gli spazi in contropiede per gli ospiti. Al 55esimo Pissardo, nel rinviare un pallone, si infortuna al flessore della gamba destra ed è costretto a uscire dal campo. A suo posto il 22enne Davide Borsellini, subito chiamato in causa dalla violenta punizione di Emerson. Alla 68esimo Udo si trova solo davanti al giovane portiere lecchese. Lo dribbla, ma la sua conclusione è da dentro l'area piccola e debole e permette a Capoferri di salvare sulla linea. L'arbitro comunque ferma tutto per un fuorigioco iniziale dello stesso Udo. Ma al 70esimo il gol dell'Olbi arriva. Cocco finalizza una bella azione corale e insacca alla destra di Borsellini. Il Lecco non si arrende e si rigetta in avanti. Ci pensa un difensore a buttare da dentro. Seljak sfrutta il calcio d'angolo di Jocolano e gonfia finalmente la rete. Il Lecco prova l'assalto finale, ma senza successo. Abbiamo avuto, se non vado errato, 10-12 potenziali per le gol. 6-7 nel primo tempo. Quando parlo di potenziali parlo che siamo arrivati lì, dove è mancato magari l'ultimo passaggio, il cross o il tiro. Lì bisogna incidere.